L'anima moderna Buonasera, disse al professor stringendomi la mano. Tempo meraviglioso. Sono appena tornato da una festa nel bosco. Ho fatto un po' di musica col trombone. Sa, questi pini forniscono l'accompagnamento più adatto per il trombone. Sono un sospiro di delicatezza contro la forza sostenuta, come osservai a Francoforte in una conferenza sugli strumenti a fiato. Posso avere il permesso di sedermi vicino a lei su questa panchina, gnädige Frau? Sedette, estraendo a fatica un sacchetto di carta bianca dalla tasca posteriore della giacca. Ciliegie, disse, annuendo e sorridendo. Non sa niente come le ciliegie per attivare la salivazione dopo aver suonato il trombone, specialmente dopo Ich liebe dich, Y. Quelle note tenute su Liebe mi riducono la gola, secca come una galleria ferroviaria. Ne vuole? Mi scosse davanti il sacchetto. Preferisco guardarla mentre le mangia. Ah, 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 incrociò le gambe, ficcandosi il cartoccio delle ciliase fra le ginocchia per lasciar libere le mani. Psicologicamente capisco il suo rifiuto e la sua innata delicatezza femminile che preferisce sensazioni eteree. O forse non le piace mangiare i vermi. Tutte le ciliegie contengono vermi. Una volta all'università feci un esperimento molto interessante con un mio collega. Mordemmo due chili delle migliori ciliegie e non trovammo un esemplare senza verme. Ma che vuole? Come li fece osservare dopo, caro amico, le cose stanno così. Se si vogliono soddisfare i decideri della natura, bisogna essere anche abbastanza forti da ignorare i fatti della natura. La conversazione non è troppo profonda per lei. Ho così di rado il tempo e l'occasione di aprire il cuore a una donna che mi succede di dimenticarmene. Gli lanciai uno sguardo acuto. Osservi com'è polposa questa, esclamò Herr Professor. Riempie quasi la bocca da sola. È così bella da poter essere appesa alla catena dell'orologio. La masticò e sputtò il nozzolo a una distanza incredibile. Al di là del vialetto del giardino, dentro l'aiola. Era fiero di quella prudezza. Lo vedevo. Quanta frutta ho mangiato su questa panchina, sospirò. Albicocche, pesche e ciliese. Un giorno quell'aiola diventerà un frutteto. E io gli permetterò di cogliere tutto quel che vorrà senza pagarmi un soldo. Gli fui grata, senza mostrare in debita emozione. Il che mi ricorda si colpì con un dito a un lato del naso che stasera dopo cena il direttore della pensione mi ha dato il mio conto settimanale. È quasi inconcepibile. Lei non mi crederà. Mi ha fatto pagare a parte quel misero bicchierino di latte che bevo a letto la sera per evitare l'insonnia. Naturalmente non l'ho pagato, ma la tragedia è questa. Non posso più aspettarmi che il latte mi produca sonnolenza. La mia predisposizione pacifica nei suoi riguardi è completamente distrutta. So che mi farà venire la febbre nello sforzo di scandaliare una simile mancanza di generosità da parte di un uomo ricco come il direttore della pensione. Pensi a me stanotte, schiacciò sotto il tacco il sacchetto vuoto. Pensi che mi accade il peggio, mentre la testa mi cade addormentata sul cuscino. Due signori uscirono e rimasero ferme sotto braccio sui gradini della pensione guardando il giardino. Una vecchia e ossuta, vestita quasi interamente di guarnizioni di perline nere con una borsetta di raso a rete. L'altra giovane ed esile, in bianco, capelli zallognoli, ornati elegantemente di piselli odorosi color malva. Il professore ritirò i piedi e si stirò bruscamente estilandosi il panciotto. La madre ha qualche disturbo interno e la figlia è attrice. Però la insonnia ha un'anima molto moderna. Credo che la troverebbe simpaticissima. Attualmente è costretta a prendersi cura della madre, ma che temperamento! Una volta, nel suo album di autografi, l'ho definita una tigre con un fiore nei capelli. Vuole scusarmi? Forse posso convincerle a farsi presentare a lei. Salgo in camera mia, dissi. Ma il professore si alzò e agitò scherzosamente un dito verso di me. Beh, disse, siamo amici e quindi le parlerò proprio francamente. Credo che lo considererebbero un po' ostentato. Se a loro arrivo, lei si ritirasse immediatamente in casa, dopo essere rimasta seduta qui, da sola con me nel crebuscolo. Lei conosce il mondo? Sì, lo conosce quanto me. Mi stringsi nelle spalle, osservando con la coda dell'occhio che, mentre il professore parlava, le Godovska si erano avvicinate traversando lentamente il prato. Quando furono di fronte a Herr Professor, questi si alzò in piedi. Buonasera, disse con voce tremula Fra Godovska. Tempo meraviglioso. Mi ha procurato un vero attacco di febbre da fieno. Roelan Godovska non disse nulla. Si avvicinò a una rosa che cresceva nel frutteto embrionale. Poi, con un gesto maestoso, tesi la mano a Herr Professor. Lui mi presentò. Questa è la mia piccola amica inglese di cui le ho parlato. È la straniera in mezzo a noi. Abbiamo mangiato ciliegio insieme. Com'è deliziosa, sospirò Fra Godovska. Mia figlia e io l'abbiamo osservata spesso dalla finestra della camera. Non è vero, Sonia? Sonia assorbi la mia forma esterna e visibile con uno sguardo interno e spirituale. Poi ripete il suo magnifico gesto in mio onore. Sedemmo tutti e quattro sulla panchina con quell'aria vagamente eccitata che hanno i passeggeri sistemati in una vettura ferroviaria in attesa ansiosa del fischio del treno. Fra Godovska starnutì. Mi domando se è febbre da fieno, osservò frugando nervosamente nelle borsette di raso a rete per cercare il fazzoletto, oppure se sia la rugiada. Sonia, cara, sta cadendo la rugiada? Fra la insonnia, alzò il viso verso il cielo e si chiuse gli occhi. No, mamma, ho il viso caldissimo. Oh, guardi, il professor, c'è un volo di rondini. Sembra un piccolo grezzo di pensieri giapponesi. Nicht wahr? Dove? Esclamò il professor. Oh, sì, le vedo, vicino al cammino della cucina. Ma perché, dice, giapponesi? Non potrebbe paragonarle con uguale veridicità a un piccolo grezzo di pensieri tedeschi in volo? Si voltò verso di me. Avete rondini in Inghilterra? Credo che ce ne siano in certe stagioni, ma senza dubbio non hanno lo stesso valore simbolico per gli inglesi. In Germania? Non sono mai stata in Inghilterra, mi interruppe Vroila in Sonia, ma ho molti conoscenti inglesi. Sono così freddi, ma brividi. Sangue di pesce, disse brusca Frau Godowska. Senza anima, senza cuore, senza grazia. Ma le loro stoffe per abiti sono ineguagliabili. Ho passato una settimana a Brighton vent'anni fa e il mantello da viaggio che ci comprai non è ancora liso. quello in cui avvolge la bottiglia dell'acqua calda, Sonia. Il mio compianto marito, tuo padre Sonia, sapeva molte cose sull'Inghilterra, ma più ne sapeva più mi faceva osservare. L'Inghilterra non è altro che un'isola di carne di manzo che nota in un golfo caldo di sugo. Un modo così brillante di esprimersi. Te ne ricordi, Sonia? Io non dimentico niente, mamma, rispose Sonia. Disse Herr Professor, questo dipende dalla sua attività, Niedixfrojlein. Adesso mi domando, ed è molto interessante specularvi, la memoria è una benedizione o, scusi la parola, una maledizione? La Godowska guardò lontano, poi le si abbassarono gli angoli della bocca e le si raggrinzi la pelle. Cominciò a spargere lacrime. Ah, Dot, graziosa signora, cosa ho detto? esclamò Herr Professor. Sonia prese la mano della madre. Sai, disse, stasera per cena ci sono carote lesse e torta di noci. Se andassimo a prendere posto. E intanto, con la coda dell'occhio, il suo sguardo oblicuo e tragico, accusava il professore e me. La seguì attraverso il prato e superi i gradini. Frau Godowska mormorava. Un uomo così meraviglioso, così caro. Con la mano libera, Frau Lansonia si accomodava la guarnitura di piselli odorosi. Un concerto a beneficio degli infanti cattolici sofferenti. Avrà luogo nel salone alle 20 e 30. Artisti, Frau Lansonia Godowska di Vienna, Herr Professor Windberg e il suo trombone, Frau Oberler e Weidel e altri. Questo avviso era legato al collo della malinconica testa di Cervo appesa in sala da pranzo. La ornò per diversi giorni prima dell'avvenimento come un babelino rosso e bianco inducendo Herr Professor a inchinarlesi davanti dicendo buon appetito finché ci stufammo di quella spiritosagine e lasciammo l'incarico di sorriderne al cameriere che era pagato per compiacere i clienti. Il giorno fissato le signore sposate si amavano per la pensione vestite come poltrone imbottite e le nubili come copritorette di mussola. Paugodowska appuntò una rosa al centro della sua borsetta di rete un altro fiore era infilato nel labirinto di pieghe di un coprischianale bianco gettato di traverso sul suo petto. I signori indossavano giacchi nere cravate di seta bianca e rametti di felce all'occhiello e solleticavano il mento. Il pavimento del salone era lucidato di fresco le sedie e le panche in bell'ordine e una fila di bandierine pendule attraversava il soffitto volavano e oscillavano sulla corrente d'aria con tutto l'entusiasmo di un bucato familiare. Era stato deciso che io sedessi vicino a Fraugodowska e che Herr Professor e Sonia ci raggiungessero non appena terminata la loro parte nel concerto. Questo la farà sentire proprio uno degli esecutori disse giovialmente Herr Professor è un gran peccato che la nazione inglese sia così poco musicale non importa stasera sentirà qualcosa abbiamo scoperto una fucina di talenti durante le prove che cosa intende recitare poi la insonnia lei si gettò indietro i capelli scuotendo la testa non lo so mai fino all'ultimo momento quando avanzo sul palcoscenico aspetto un attimo e allora ho la sensazione che qualcosa mi colpisca qui e appoggio la mano sulla spilla del colletto e le parole vengono chinati un momento mormorò sua madre Sonia tesoro dietro di te si vede la spilla di sicurezza della gonna vengo fuori a fissartele per bene o lo fai da te oh mamma ti prego non dire queste cose Sonia arrossì arrabbiatissima lo sai quanto sono sensibile alle minime impressioni stonate in un momento come questo preferirei che la gonna mi cadesse di rosso Sonia cuor mio tintinnò un campanello il cameriere entrò e aprì il pianoforte nella sua riscaldata eccitazione del momento dimenticò del tutto le convenienze e spolverò la tastiera col tovagliolo bisunto che portava sul braccio Frau Oberlehrer salì a passettini sulla pedana seguita da un signore giovanissimo che si soffiò due volte il naso prima di lanciare il fazzoletto in seno al pianoforte sì lo so ben che non hai amor per me e che non hai non ti scordare di me né amor né cuor né ti scordare di me contò Frau Oberlehrer con una voce che sembrava uscire del suo negletto di tale e non aver nulla a che fare con lei ah come dolce com'è delicato esclamammo applaudendola per consolarla si inchinò come per dire sì vero e si ritirò mentre il giovanissimo signore schiariva accigliato il suo strascico il piano fu chiuso fu messo a una poltrona al centro della pedana Frau Lanzonia vi si avvicinò veleggiando un silenzio col fiato sospeso poi presumibilmente la freccia alata le colpì la spilla da colletto si implorò di non andare nei boschi investiti da strascico ma piuttosto in drappeggi più leggeri possibile e di colicarsi con lei sugli aghi di pino la sua voce forte leggermente aspra riempì il salone lasciò ricadere le brazza sullo schienale della poltrona flettendo i polsi e muovendo le mani magre eravamo estagiati e silenziosi accanto a me il professor insolitamente serio e con gli occhi sgranati si tirava le punte dei baffi Augodowska assunse allo speciale atteggiamento distaccato della genitrice orgogliosa l'unica anima che rimase insensibile al richiamo di lei un cameriere che pigramente appoggiato alla parete del salone si puliva le unghie con l'angolo di un programma era fuori servizio e ci teneva a dimostrarlo cosa avevo detto riedò il professor al riparo dell'applauso tumultuoso temperamento eccovelo lei è una fiamma nel cuore di un giglio sono certo che suonerò bene ecco tocca a me sono ispirato froila insonia disse mentre la gentildonna tornava da noi pallida e avvolta in un grande scialle lei è la mia ispirazione stasera sarà l'anima del mio trombone aspetti e sentirà alla nostra destra alla nostra sinistra la gente si piegava a sussurrare ammirazione giù per il collo di froila insonia lei si inchinò in grande stile ho sempre successo mi disse vede quando recito io sono a Vienna ai drammi di Ibsen ci hanno mandato tanti mazzi di fiori che la cuoca ne aveva tre in cucina ma qui è difficile c'è così poca magia non lo sente non c'è trazza di quel misterioso profumo che sale fluttuando quasi come una cosa visibile dalle anime degli spettatori viennesi ci manca tanto che il mio spirito muore si piegò in avanti il mento sulla mano muore di fame ripetè il professor comparve col suo trombone gli soffiò dentro lo alzò davanti a un occhio si tirò su i polsini della camicia e sguazzò nell'anima di Sonia Godovska riuscita un tale entusiasmo che lo richiamarono a suonare una danza bavarese che considerò più un esercizio di fiato che una realizzazione artistica Frau Godovska batteva il tempo col ventaglio seguì un signore giovanissimo il quale gurgheggiò con voce tenorile di amare qualcuno col cuore insanguinato e mille pene Frau Lansonia recitò una scena di avvelenamento con l'ausilio del tubetto di pillole di sua madre e uno sdraio al posto della poltrona una giovane fanciulla grattò una ninna nanna su un giovane violino e il professor compì gli ultimi riti sacrificali sull'altare dei bambini sofferenti suonando l'inno nazionale ora ora devo mettere a letto la mamma mormorò Frau Lansonia ma dopo ho bisogno di fare una passeggiata è imprescindibile che liberi per un momento il mio spirito all'aria aperta vuole venire con me fino alla stazione ferroviaria e ritornare benissimo mi bussi alla porta quando è pronta così l'anima moderna e Dio ci troviamo insieme sotto le stelle che notte disse lei conosce quella poesia di Saffo che parla delle sue mani nelle stelle io sono stranamente Saffica ed è una cosa così notevole non solo sono Saffica ma in tutte le opere dei più grandi scrittori specialmente nelle loro lettere inedite trovo qualche tocco qualche segno di me qualche somiglianza qualche parte di me come mille riflessi delle mie mani in uno specchio oscuro ma che noia dissi non so che cosa intenda per noia è piuttosto la maledizione del mio genio si interruppe di colpo dissandomi sa della mia tragedia domandò scossi il capo la mia tragedia è mia madre vivendo con lei vivo con la barra delle mie aspirazioni non nate ha sentito quella frase sulla spilla di sicurezza stasera a lei può sembrare una piccolezza ma mi ha rovinato i miei primi tre gesti sono rimasti infilzati in una spilla di sicurezza suggerì sì esattamente e quando sono a Vienna sono vittima dei miei umori sa anello a fare cose selvagge appassionate e mamma dice per favore prima versami la pozione ricordo che una volta ebbe un attacco di collera e lanciai dalla finestra una brocca del lavabo sa cosa disse Sonia non ha molta importanza se getti degli oggetti dalla finestra pur che tu tu scelga qualcosa di più piccolo suggerì no pur che tu me lo dica prima umiliante non vedo luce possibile in questa oscurità perché non si aggrega una compagnia di giro e lascia sua madre a Vienna come? la serie a Vienna la mia povera mammina malata e vedova preferirei annegarmi amo mia madre come non amo nessun altro al mondo nulla e nessuno crede sia impossibile amare la propria tragedia dai grandi miei dolori trago i miei piccoli canti questo è Heine o sono io oh allora tutto è a posto disse allegramente ma non è a posto suggerì di tornare indietro tornammo qualche volta penso che la soluzione stia nel matrimonio disse Froil Linsonia se trovassi un uomo semplice tranquillo che mi adorasse e che badasse alla mia mamma un uomo che mi facesse da guanciale perché il geneo non può sperare di trovare compagno lo sposerei e sa che il professor mi ha dedicato attenzioni molto spiccate oh Froil Linsonia disse molto compiaciuta di me perché non lo fa sposare con sua madre in quel momento stavamo passando davanti a una bottega di parrucchiere poi Linsonia mi afferrò il braccio oh lei lei balbettò che crudeltà sto per svenire la mamma risposarsi prima che mi sposi io che indegnità sto per svenire qui e subito mi spaventai non può dissi spotendola torni alla pensione e svenga quando vuole ma qui non può svenire tutti i negozi sono chiusi non c'è nessuno in giro la prego non sia così assurda qui e qui soltanto indicò il punto esatto e cadde splendidamente restando immobile benissimo dissi svenga pure ma la prego si sbrighi non si mosse mi camminai verso casa ma ogni volta che mi guardavo indietro vedevo la forma oscura dell'anima moderna stesa davanti alla vetrina del parrucchiere finalmente mi misi a correre e andai a tirar fuori il professor dalla sua stanza ma la insonnia è svenuta dissi laconicamente du liber got dove come davanti al negozio del parrucchiere in via della stazione Gesù è Maria e non ha acqua con sé afferrò la caraffa non ha nessuno vicino affatto dov'è la mia giacca non importa prenderò un raffreddore di petto volentieri me lo prenderò è pronta a venire con me no dissi può portare il cameriere ma ci vuole una donna non posso essere così indelicato da cercare di slacciarle il busto le anime moderne non dovrebbero portarne dissi mi spinse da parte e si precipitò giù per le scale quando la mattina dopo scesi a colazione c'erano due posti vuoti a tavola però la insonnia e il professor erano andati a fare un'escursione nei boschi per tutta la giornata stupi stupi